35. Coronavirus. Per la pandemia del Covid-19 molti dicono ce la faremo, vinceremo, se saremo uniti vinceremo, insieme ce la faremo, eccetera. Che significa? Commento. Per i maestri non c'è nessun dubbio che ce la faremo, perché la pandemia è un passaggio dell'equazione evolutiva che controlla la condizione umana. Passaggio chiamato Covid-19 è creato da noi stessi. Ma non saremmo noi a vincere la pandemia, ma la solita legge d'evoluzione, che non fallisce mai, perché è divina, ed è divina perché è perfetta. All'umanità e ad ogni uomo che la compone, spetterà invece, come sempre, non di vincere la pandemia, che sarà comunque vinta, ma come la vincerà, il che significa quanta evoluzione l'umanità e il singolo individuo avranno acquisito nel superarla, che si muoia o non si muoia a causa della pandemia. Solo questo interessa alla legge. Grazie.